iniziamo il video reaction di natale benvenuti in kiwi bello a tutti ragazzi benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti allora iniziamo inizia questo periodo natalizio è già iniziato il periodo natalizio quindi cosa mancava in questo periodo le reaction ai reel più natalizi che troviamo su instagram oggi vedremo proprio delle belle porcate quindi iniziamo subitissimo ragazzi iniziamo subitissimo ma non prima che vi siete ragazzi iscritti al canale attivate la campanella mettete like commentate va tutte le cose che dovete fare sempre quindi raga o sapete o sapete e quindi andiamo a vedere i reel natalizi che ci stanno su instagram e se anche voi avete fatto precedentemente nei giorni passati qualche reel natalizio è probabile che magari uscite in questo video non lo so però e andiamo 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 a vedere facciamo questa reaction di facciamo una in una decina di reel vediamo instagram cosa ci suggerisce questi invece vanno in bicicletta a mezzo arviale qui a miami dove fanno 40 gradi pure a natale che che bello perché anche noi non possiamo avere 40 gradi anche a natale perché perché no loro invece vanno in giro in bicicletta a mezzo e maniche e pantaloncini corti la puttana questo invece è il cucciolo che quello di prima che avete visto entra così queste sono le giostrine di natale in quale nazione non c'è scritto quindi non lo sapremo mai queste sono le bancarelle di natale le famose bancarelle di natale che tutti quanti amiamo col trenino le luci queste invece che fa le tre sciate che facevano una volta sul natale quelle cose strane quei balletti imbarazzantissimi non non le fanno più ste cose su pure instagram si è evoluto e non le fa più e vabbè andiamo avanti andiamo non va pure si rifiuta di andare avanti ecco andiamo avanti si rifiuta di andare avanti ecco allora questo invece labbro di natale con a new york labbro di natale di new york andiamo avanti andiamo oh queste sono le tre sciate che ci piacciono questo tipo che fa il balletto queste sono le tre sciate che ci piacciono queste sono le belle mp a bra 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 di è un ritorno di nuovi cani che con la palletta che ho capito basta fai biscotti questo far piedino di natale le casette di natale questa cosa molto inquietante sinceramente questa invece sta casa tutta di bianco per neve e colore bianco con gli albi rossi poi inquietante mi ricorda un po la casa di hit mi ricorda vabbè e questa invece che fa entra in questo negozio no non è non entra vedi dicono sono povera come la merda non posso entrare non posso comprare niente resto fuori e piango dentro e questo invece che fa qua nella piazza e tutti gli alberi morti di natale tutti quelli morti li hanno rimessi anche se sono quello che gira sulla giostra vabbè questo è un programma boh e questo è il sindaco di londra ma le tre sciate voglio le tre sciate come quello che ballava poco fa quello voglio io le tre sciate l'albero di natale fa vedere quanto è figo il mio albero di natale ecco tutto il trenino sotto ma che 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 roba esagerata questo che suona gli state meragosa davanti all'albero strafigo ma io voglio le tre sciate io voglio le tre sciate come quello che ballava poco fa ma pure instagram e cosato non dà più soddisfazione questo è sempre sto camoro tu cazzo tu cazzo i can e questo è lo slow motion che addobbano l'albero di natale e si vedono pure le bestemme di lui che bollano così ma neanche con queste cose che mi dovete far mettere a me e quindi dice questo si fa gli addobbi queste cose che fanno ezie a fa i dette這一 e fai addobbi di natale così e questo è jamie fox che canta natale questo è la casa questa è invece la casa di jamie fox invece è un po essere altrimenti Molto utile diciamo Se ti metti là sotto La scossa di corrente T'appia al sicuro proprio T'appia proprio Ti vedi per Natale coi fiocchi Che poi piove Ti frascichi tutto Manco è una finta casa Fatta apposta per piatta la corrente Sotto a pioggia Ci piace, ci piace Addobba l'albero Questi sono i pupazzoni Voglio le tresciate Voglio le tresciate Manca i più le tresciate Basta con ste ricette di Natale A vitru tu caz Questi invece che sono Gli spettacoli di Natale Che cantano E vabbè raga E vabbè quindi niente Manco le tresciate di Natale Manco più ce le fa vedere Manco Instagram Le cercheremo da qualche altra parte Vabbè ragazzi quindi Se trovate delle tresciate di Natale Ragazzi Commentate qua sotto E condividetemele sulle storie di Instagram Noi invece ragazzi ci vediamo A un prossimo video E buona vigilia Buon Natale Oh e fatemi sto regalo di Natale Iscrivetevi al canale Noi invece ci vediamo ragazzi A un prossimo video Shogari Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale